Stop alla chiusura dei punti nascita in Abruzzo. Lo chiedono, in una lettera inviata al Presidente Luciano D'Alfonso, sei consiglieri regionali di maggioranza, dopo il decreto del Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che ha introdotto l'opportunità di tenere aperti anche i punti nascita sotto la soglia dei 500 parti, salvo che si ottenga un'aderoga dal Comitato per Corso Nascita Nazionale, il consigliere regionale Luciano Monticelli. Ieri ho protocollato al Presidente della Giunta regionale, Presidente D'Alfonso, insieme ad altri 5 consiglieri, la possibilità di inviare al CP nazionale, al percorso Nascita Nazionale, la richiesta di fare un'ulteriore verifica all'indomani del decreto Lorenzin, dove ci siamo accorti che questa possibilità c'è, ma ci siamo accorti che in Italia ci sono tanti ospedali, tanti punti nascita dove sono sotto la soglia dei 500. Questo sa dimostrare che questo fatto della sicurezza non era poi il motivo principale, benché riteniamo tutti che bisogna nascere in sicurezza, ma qualcosa è sfuggito, e allora noi chiediamo un recupero anche in zona Cesarini e dove lì è stato chiuso, faccio riferimento ad Atri e in altri reparti dove si stava per chiudere, di fare un ripensamento.